Ciao! Benvenuto nel canale di Agrieuro. In questo video ti presenteremo le caratteristiche principali del prodotto. Ti guideremo attraverso il montaggio, illustrandoti come assemblarlo facilmente, in autonomia quando lo riceverai a casa. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che Agrieuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Ideale per chi ama dedicarsi ai progetti faidate, l'idropulitrice lavora STM 160 VPS Plus è un'ottima scelta per coloro che cercano un mix vincente di durabilità e alte prestazioni. Questo apparecchio si distingue per la sua pompa di qualità superiore e per i pistoni in acciaio, elementi che insieme assicurano un funzionamento efficace e risultato di pulizia eccellenti. Un elemento chiave è la valvola bypass integrata, progettata per incrementare l'efficienza operativa e estendere la vita utile dell'idropulitrice. Arricchita dalla tecnologia Washing Program System VPS, permette una selezione intuitiva del programma di lavaggio più adatto alle diverse superfici, assicurando la massima protezione dei materiali trattati e una considerevole riduzione dei consumi energetici. Il suo design intelligente prevede un comodo carrello con manico ergonomico che ne facilita il trasporto e l'utilizzo, oltre a soluzioni pratiche come il sistema di arresto automatico e lo spazio dedicato agli accessori, rendendo l'esperienza d'uso piacevole e senza complicazioni. La dotazione di accessori inclusa è pensata per soddisfare le esigenze di diversi tipi di pulizia, con una pistola a innesto rapido, una lancia con testina regolabile e varie spazzole per interventi mirati. Ed ora, ecco la guida di montaggio del prodotto. Grazie a tutti! Visita il sito AgriEuro e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.